All'inizio non ero molto convinta di rappresentare questo ruolo, ma poi mi sono ricreduta perché è una bellissima esperienza sicuramente da rifare e consiglio a tutti di partecipare proprio per mandare avanti le tradizioni del paese. La mia esperienza è già da tempo che partecipo come autore del presepe sia nella costruzione, nel fare il tutto del presepe e sia a vestire le vesti di San Giuseppe. Certo, vestire le vesti di San Giuseppe è un ruolo abbastanza impegnativo perché giustamente ti vedi un po' gettonato dalla gente, le fotografie, le cose, è abbastanza emozionante fare questo tipo di ruolo di San Giuseppe. Lo consiglieresti di partecipare alle persone che comunque in questi anni non hanno partecipato? Certo, consiglierei perché è una bella esperienza, una tradizione, una cosa bellissima. Io spero che qualcuno si faccia avanti e possa vestire come me le vesti di San Giuseppe.